Lo farò, non tenere! Marva principessa! Ma ancora non ci credo! Quanto devo essere sembrato stupido! Sei uno stupido! Sono sediamenti figlio! E tu chi sei? Un povero peggio nero come te! Ma insieme! Forse abbiamo una costruita! Sono tutto orecchie! C'è una caverna figlio! La cavernetta che c'è lì! Piena di tesori! Aspettate qualsiasi immaginazioni! Convento che la sveglia per una poca retta del fino appoggio la principessa! Ah! Dice che sono un principe, posso sapere! Allora non conosci la legge come uno, colui che ha l'ordine della legge segno che sia! E perché dovresti dividere questi meravigliosi tesori con me? Mi servono un po' di gambe giocati con una schiena! L'ho portata da me a prenderli! Oh! C'è un problema! La caverna è fuori! Non siamo dentro! Non sempre le cose sono quello che sembra! Allora... Allora hai fatto? Chi osa distrumpare i miei ricosi? Ah! Sono lì! Aoni! Vuoi entrare? Non puoi farei ampio che la lampada! E poi ti darò la tua ricompensa! E poi ti darò la tua ricompensa! Per diventare il più ricco del suo da... Ah! Tutto qui sembra solo una macchia tempo da senza nessun valore e qui c'è scritto qualcosa Non si accedeva Dopo che ci viene lì dentro uno si ritrova con il collo tutto incriccato Buona, per prima! Oh, buona! RAAA! C***o vuole essere di nuovo fuori ragazzi! Oh, che è la scala signora? Benvenuti al nostro show's up, è venuta a voi chiama? Oh, Alan! Ah, di... Alan, il numero di battesimo o un numero di arte? Possiamo chiamare Alan o magari sono più? Grigini! Ressi? Hai presente? Togli la carta, Randy? Ho sbattuto la testa più forte quanto pensassi. Tu sei il pochetto piccolo del mio ultimo padrone, non sono io che sono prima vostra. Guardate un po' di contino, mi trovi cresciuto! C***o! Io... sarei il tuo padrone! Esatto! E' grande il giovanotto! Che cosa vuoi chiedere? Io sono il più sterneto! Più salta vuoto spinto! E' più piccato! Ma... MAI! E poi andiamo in tempo! Il peso massimo della lampada! Tutto per cui in diretta le sotene che per i salli rossi disegni del santo siena. Grazie! Come? Vomenta! Ma vuoi vedere? Prendesi te, sono tre e basta! E se vuoi usarvi uno da chiedermi altri, la risposta è lì, ma tre! 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 Una tazza! Una volta usciti dal mio nazionale, se non si chiacchia! Io sto proprio sognando! Padrone! Secondo me non hai ancora realizzato che si parla. Perché non provo a concentrarti un primo passo a dimostrarti le mie possedità? Mi vengo con quattro tazzo dal rum arrivava e ricopando te! E se non ti aiuta tutto sai perché la mia magia un certo non so che ma è sua acqua forza e mente i cacchi ma quando vuoi la vuoi adoperà! saranno finiti tutti i tuoi guai se tu sta la parola non va a stretta! E mi ha chiesto «Oui, c'è un messiere di cose!» Scrive sul carriè! Chi è più e tutto le sciarrivo è è un amico amico come me! Tornalì a un ristorante è come un grande fè! Venti tutto ciò che chiedi a Radazza è un amico come me! Oh, son felice di sentirti! Se il boss è un pezzo sarà ed oggi ogni tipo assaggerà gradisce ancora un po' di patavà! Si vive in sedia dimenti il calabino con le raga servito ed il primo mezzo di Roma! No, no! Na, na, na! Un amico come me! C'è la regia di è la fantasia è strigoneria è strammagina sta in maniera sta in maniera sono qui per te un'altra ma se dico tarra tarra fissati qua loro spareranno tutte le pere agliate gli occhi che mi schifo a mia per le sorprese che io ti provo sono tre uomini c'era il canale si e me ne voglio con le robe numero loro la 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 di farciciare i piedi di due a quello che ti vuoi ma mi strutto in quel punto la coraggia che si deve esaggirò un mistero in questo mondo è qui per me e capirai che solo io sono un grande ricoto grande ricoto sono un po' interessante ricoto Non c'è l'altro, amico! Dici, che posso chiederti tutto quello che voglio, e così? Ah, 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 beh, con qualche piccolo applauso, però, e con il mio palino di lo scrive. E cioè? A regola numero uno, io non ammazzo. Quindi non chiedano. A regola numero due, non posso far rimamorare qualcuno di qualcun altro. No! Guarda il mio romanticone! A regola numero tre! Non posso, secondo me, far suscitare i morti. Intanto, su, per lo spettacolo, mi fanno anche un po' scritto! A parte questo, chiedi pure! Ok, ci sta! Allora, tre desideri voglio azzecchare quelli giusti. Tu che cosa chiederesti? Io? Eh, nessuno me l'aveva mai chiesto prima. Beh, nel mio caso, ho lasciato vedere. Forza! No, non lo posso. Avanti, vim! La mia! La mia! Sei un prigione! È un mestino! Ci sarà quello del cielo! È liberale! È il cosmicismo! E vi posso lo spazio in caso? Oh, genio! Ma è terribile! Oh, essere libero! Non dovrei più un comando padrone! Un comando padrone! Un comando padrone! Un comando padrone! Questa sarebbe una cosa più preziosa di tutte le magie, di tutti i tesori, di tutto il mondo! Ma che cosa sto sognando? Torniamo alla realtà, non potrà succedere mai! Sveglia, genio, che la guerra è finita! Ma perché scusa? L'unico che potrebbe liberarmi sarebbe il mio padrone usando uno dei suoi desideri. Eh, ma te lo immagini qualche volta che è successo. Lo faccio io, ti darò la libertà. Eh, come no? No, davvero, te lo approfitto. Quando avrai esaudito i miei primi due desideri, io sarò il terzo per liberati. Beh, hai visto mai? D'accordo, e adesso ho scontato la magia! Ma dai, spada, qual è la cosa che desideri di più? Beh, ci sarebbe una ragazza. E non è? Non posso far innamorare nessuno del genio, di Carlo? No, ma genio, lei è intelligente e spiritosa e... Carinetta. Stupenda! Ha due occhi che sembrano... I capelli, wow, e il sorriso... Anni, sei l'anini. Ma è una principessa. Per avere una possibilità dovrei essere. Ehi! Genio, voglio che tu mi faccia diventare un primo! Aiutiti! È scritto come tu. Se la principessa non aveva scelto un manito dentro il termine stabilito, allora dovrà essere il sultano a scegliere per me. Ma... Già svegliò già da tutti quei pretendenti. Come potrei scegliere qualcuno per la iogia? Non vi preoccupate, io sovranco c'è molto. Nel cazzo di cui non fosse impossibile trovare un principattato, la principessa dovrà andare in sposa. Ma... Interessante. Continua, a chi? Al Gran Vizir! Ma allora si tratta... Di me? Ma... Io credevo che la legge dicesse che sono un principe che può sposare la principessa. Sono sicurissimo a me. Allora, mi estremi, estremi rimedi, io mio signore. Certo, estremi rimedi. Voglio ordinarti la principessa di sposarmi. Io ordinerò alla principessa di... Ma che dici? Tu sei vecchio. La principessa deve sposarmi. E la principessa deve sposarmi. Ma che cos'è? Non sentite musica? Grazie a tutti. 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 Ecco qui un giovane veramente straordinario ed è anche un principe, pensa. Se siamo fortunati forse non sarai costretto a sposare Jasmine. Notifico che c'è una cosa di cui vado fiero già fare è che mi basta un'occhiata per giudicare una persona. Ah, Jasmine sarà entusiasta di voi. Credo che anche io sarò entusiasta della principessa. No, signore. No, signora, devo entrare un'occhiata di voi. Ma come dice Azni, questo tronotto non è diverso dall'altro. Che cosa mi fa credere di essere dentro della principessa? Maestra, io sono il principe Alì. Ma papo, lasciate che la incontri. Vedrete che saprò conquistarla. La principessa Già, qui? Chi è? Sono il principe Alì. Non c'è me. Hai in giro con me? Potremmo uscire dal palazzo, vedere il mondo. Posso stare tranquilla? Certo, ti finimi. Come? Ti finimi? Sì. Ora vieni con me, verso il mondo di un canto, principessa è tanto che un cuore aspetta un po' di un canto di un canto. Ciao. Come si? Nessuno dirà che non si va, è un mondo tuo per sempre. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te, senza confida tu, poi guarda tu, di dolce sensazione nasce in me. E anche io, è sorprendente accanto a te, senza confida tu, poi guarda tu, il mondo è mio, è sorprendente accanto a te, senza confida tu. con un po' di follia e di magia tutte le cose che volerò la voce senza rosa ma se questo bisogno non tornerò mai più, mai più da giù è un mondo che appartiene a noi se tanto a noi ci riferirà solo per noi e per me e per me Sì, la boba. Poi l'alto, viva il principe. Sì, sono vittura, c'è questo. Senti Aldio adesso comincia proprio In questa puntata la patella sarà decidata L'uomo alto, frutto e nero Sono io il tuo padrone a te Però quello che ti amico Genio, esaudisci il mio parimo desiderio Voglio essere trasformato in un sultano Giaffar, tu, vile graditore Giaffar, io devo Mi rischiace ragazzi, ho un uomo adonis Giaffar, ti ordino di smiterà Ma c'è un uomo ordine adesso Il mio parimo di me Finalmente sarete voi che finchinerete a me Voi non cinchinerete mai, Giaffar Se non vi volete inginocchiare di fronte al soldato Allora vi dovrete inginocchiare di fronte allo stregone Genio, il secondo desiderio Voglio diventare lo stregone più potente di tutto il mondo Genio, prendati Il genio sarà sempre più potente di me, Giaffar Che cosa? Lui ti ha dato i poteri che hai e lui può riprenderseli Ah, che mi convinto che mi dimbarla nessuno Trassegni a Giaffar, tu sei e sarai sempre il numero due Ah, hai ragione I suoi poteri sono superiori ai miei Ma non per molto Ma non per molto Il ragazzo scherza Non mi funziona il cervello Ha preso un po' le bocchie in testa Schiavo, esaltisci il mio terzo desiderio Voglio adissare la scora un canale Io non si Ehi spieghi posso dire Tu vola che vuoi dire Tu volerlo Tu volerlo Estellunale Palazzo Tu volerlo Ma che cosa hai fatto? Fidati di me! L'universo è nelle mie mani! Ormai se lo impugno! Riempito che corre troppo, Giappardo! Non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non volevi essere un genro? Bene, ora lo sei! Ma che cosa? Con tutti i no e il contro! No! Ma sono un genro! Non sono un po' di rinforzamento! In uno solo spazio lontano? Ah! Sei un vero genietto, lo sai? Genro, voglio che tu sia libero! Ed ecco in arrivo per diventare il principe! Ecco! Genro, sei libero! Sono libero! Sono libero! Presto, dai, chiedi una cosa sulla, dai, 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 chiedi il mio, dimmi che voglio io, dai, no! Ehm, voglio il mio! Col cavolo! Oh, 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 oh! Ehm, mi prende la sua sicurezza! Sono libero! Ehm, finalmente libero! Io alzo i barchi ragazzi e vanno a tenere il conto, sono... Geno, io... io credo che mi mancherai. Anche tu ha... E qualunque cosa possano dire gli altri, tu per me sarai sempre un prigio. Sei giusto, il tuo valore ce lo hai dimostrato, questo è più che certo. E' quella legge il vero problema. Padre... Beh, ma insomma, solo non solo il soldato, da questo momento in poi... La princesa potrà sposare chiunque e la riterrà dentro della sua mano. Lui, io scelgo... Io scelgo te. Anni. Chiama mia. Oh, venite, venite tutti quanti, qui ci vuole un'abbraccia collettivo. Beh, che dire, non so tutto che fare da questa parte. Perciò io taglio la... Cosa! Vi saluto! Sono Dino! Beh, che dire, non so, non so perd一點, noi temi noi, non so perdame. O è finito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!